Buonasera a tutti, siamo alla puntata di questo martedì 24 gennaio dedicata al Taranto e il nostro approfondimento in generale sulla Serie C, più in particolare sul Taranto. Ci sono tante notizie, una dell'ultimo ora, quella che era già nell'area, l'avevamo anticipata noi di Antenna Sud, l'ingaggio di Luca Crecco, 27 anni, proveniente dal Pescara, 171 partite in Serie B, 5 in Serie A con la Lazio, quindi un giocatore, comunque un centrocampista di inserimento, come si dice adesso nel gergo calcistico moderno, che mancava come qualità di gioco, come ruolo allo scacchiere di Capuano. Adesso io vi presento gli ospiti che ringrazio e saluto per essere qui con me in questa puntata. Abbiamo un nuovo volto rosso-blu, quello di Alfredo Bifulco, grazie Alfredo, benvenuto. Buonasera, buonasera. Grazie. Poi abbiamo un graditissimo ritorno, quello di Salvatore Mazzarano, grazie Totò, bentornato. Buonasera a te Gianni, buonasera a tutti. Impegnato per il suo lavoro, adesso è collaboratore di Gianni Kedda, il selezionatore della rappresentativa di Serie D, lui fa il suo lavoro nel girone H, quello insomma meridionale. Quindi prima lo vediamo più spesso, adesso meno perché è impegnato per lavoro. Allora, vi dicevo di questo ingaggio, cioè questo centrocampista di inserimento, una mezzala per intenderci, che ha una buona esperienza, un giocatore di qualità, che potrà dare quel pizzico in più, come dicevamo, di qualità alla squadra ionica affinché si possa anche cominciare a pensare in maniera diversa per il futuro. Una squadra di prospettiva quella che sta nascendo, perché stanno arrivando calciatori importanti come Alfredo Bifulco, anche egli insomma un giocatore di esperienza con tante partite in Serie B e quindi diciamo che si sta costruendo quello che potrebbe essere il Taranto del futuro. Mi pare che questa sia l'intenzione della società, i nomi che stanno arrivando sono di livello, di spessore. Alfredo Bifulco. No, credo che la società stia facendo un mercato anche per il futuro, quindi stanno arrivando dei giocatori importanti, dei giocatori che si metteranno subito a disposizione della squadra e credo che sia giusto così guardare anche magari all'anno prossimo. Calciatori giovani ma già con esperienza, abbiamo detto di Crecco, abbiamo detto di Bifulco ma anche Semprini, Rossetti, giocatori giovani come Canalicchio che è un esterno mancino, un braccetto di sinistra. Toto, come giudichi questo atteggiamento sul mercato del Taranto? È un segnale importante della società che sicuramente è già proiettata a un discorso futuristico, selezionando profili che nel contempo abbiano una carta di identità verde ma nello stesso tempo hanno già una discreta esperienza nei campionati anche di categoria superiore. Devo dire che la società si sta impegnando su questo fronte e vedremo sicuramente nel prosieguo del campionato innanzitutto i risultati immediati e poi a lungimiranza in queste scelte. E allora abbiamo ascoltato in esclusiva subito dopo il primo allenamento con il Taranto, Luca Crecco, pertanto si presenta così ai tifosi rosso-blu e ai microfoni di Antena Sud. Sentiamo l'intervista a Luca Crecco. Luca Crecco, 27 anni, centrocampista proveniente dal Pescara con una importantissima esperienza negli ultimi 5 campionati in Serie B. A Taranto con quale obiettivo? Ciao a tutti, sicuramente l'obiettivo è quello di rimettermi a disposizione soprattutto dell'allenatore che mi ha voluto fortemente e l'obiettivo della squadra è salvarsi e far più punti possibili per stare tranquilli. L'obiettivo mio personale è rimettermi a disposizione perché sono stato sei mesi impiegato poco dopo che rientravo da un infortunio e adesso sono a disposizione pronto per dare il mio contributo. Descriviti dal punto di vista tecnico, una mezzala, centrocampista, propositivo, soprattutto in chiave offensiva. Sì, sono nato in una mezzala di inserimento e mi piace anche variare, giocare anche sulla fascia o posso fare parecchi ruoli, però il mio ruolo principale è quello e mi piace inserirmi e speriamo di fare qualche gol in inserimento. Hai fatto anche il primo allenamento con la tua nuova squadra, lo Iacovone, che impressione ti hanno fatto i nuovi compagni? Bene, bene, tutti bravi ragazzi, conoscevo solamente di persona Cristian Tomasini, però ho già conosciuto quasi tutti e mi sono sembrati tutti bravi ragazzi e sono contento di essere qui e di mettermi a disposizione. Taranto per te potrebbe rappresentare una tappa importante della carriera dopo tanti campionati di Serie B, come dicevamo, una società ambiziosa, una piazza ambiziosa per poter riprendere, per spiccare nuovamente il volo? Sì, sì, sicuramente è uno step importante, come dicevo adesso devo rimettermi a disposizione, è una piazza importantissima, sono contento di essere qui e di rilanciarmi e sono pronto a, come dicevo, a giocare. Tra l'altro arrivi in un momento in cui può succedere davvero di tutto, vista la classifica dopo la quarta giornata di ritorno? Sì, sì, siamo lì e adesso abbiamo una partita importantissima domenica che dobbiamo vincere per continuare comunque il percorso che hanno fatto i ragazzi, che comunque hanno fatto una cosa davvero ottima da adesso, dall'inizio del campionato fino ad adesso. Che cosa pensi di questa piazza, della città e il tuo messaggio alla tifoseria Ionica? No, la città non la conoscevo, la sto conoscendo adesso piano piano e mi sembra una bellissima città e il messaggio che posso dare è che sono arrivato qua per dare il mio contributo e che lotteremo su tutti i palloni per portare il Taranto dove merita. Per finire pronto all'intensità senza fiato di mister Capuano? Sì, sì, il mister già oggi che ho visto il ritmo dell'alleamento è un mister che comunque tiene molto alto il ritmo dell'alleamento quindi sono contentissimo e sono davvero contento di essere qui. Ecco, sempre per il discorso legato al mercato, a rescisso oggi il difensore Edoardo Vona, Mancino, un braccetto Mancino, è andato alla Re Canatese e quindi diciamo che in questa maniera si è liberato il famoso slot perché adesso bisogna fare i conti anche su questo per il tesseramento. Per quanto riguarda invece Crecco sarà disponibile già per la prossima partita a Casalinga che il Taranto affronterà contro la Gelbison domenica prossima allo Iacovone, un'altra sfida molto importante, sempre in chiave salvezza perché la Gelbison ha 27 punti, ovvero due in meno rispetto alla formazione Ionica. Ma adesso facciamo un passo indietro, parliamo di Fidelisandria Taranto, facciamo scorrere le immagini di questa partita che è stata una partita bella a dispetto del risultato perché ci sono state tantissime occasioni da rete mentre scorrono le immagini, potete vedere, pensate che il Taranto soltanto in un tempo ha colpito tre legni, una traversa e due pali, questa è la traversa di Provenzano deviata da De Franco con il pallone che va a sbattere sulla parte superiore del montante. L'Andria che sicuramente è stata rigenerata non solo dall'imponente mercato effettuato dal direttore sportivo Fernandez ma anche dal nuovo allenatore Bruno Trocini che è un tecnico esperto, ha giocato una partita di grandissima generosità, molto intensa, ha creato anche delle palle golle, se vogliamo in qualche modo agevolate da, non da degli errori ma delle circostanze fortuite come questa di Formiconi che scivola e lascia campo libero a Bolsius, poi Ecuban si lascia ipnotizzare da un super Vannucchi che è stato davvero molto bravo qui Totò perché ha chiuso praticamente lo specchio della porta ad Ecuban perché in due contro uno è riuscito a evitare la capitolazione. Sì, è stato bravo ma l'attaccante dell'Andria per fortuna. Andiamo un attimo indietro con le immagini così magari descriviamo, ecco qui c'è un bel po' di sfortuna di Formiconi perché… Sì, è un infortunio che ci può stare, è scivolato, il portiere è stato bravo comunque a temporeggiare e a fare… Perché è netto anticipo. Sì, però diciamo che una grande mano gli era data l'attaccante perché invece di fare il tap-in in modo abbastanza semplice ha voluto esagerare e a quel punto è stato chiuso del tutto e meno male che sia andata così, altrimenti come dicevi giustamente tu l'Andria ha interpretato bene così come il Taranto perché le occasioni di Dagoci sono state per entrambe le formazioni e niente. Ecco, vediamo questo palo colpito da Mastro Monaco su un'traversione dalla destra e il portiere Vandelli non è andato benissimo su questo pallone che lo ha superato. Guardate, il pallone qui invece di insaccarsi si stampa sul palo, poi non c'è stata la possibilità di deviare perché la difesa, importa perché la difesa è riuscita ad allontanare in anticipo. Vedete questa circostanza sicuramente molto positiva. Secondo Legno, poi il Taranto ha colpito anche un altro palo proprio con Bifulco dal quale ci faremo raccontare questa circostanza su assist dalla sinistra. Qui vediamo ancora più da vicino il palo colpito da Mastro Monaco e poi ha salvato Arrigoni. Questa, se non vado errato, è l'azione del palo di Bifulco, vedete l'assist di Antonio Romano. Per Bifulco che si gira benissimo, lascia sul posto il difensore centrale dal Mazzi e il numero 14 del Taranto vedete che si dispera. Ecco, sentiamo dalla sua viva voce il racconto di questo palo. Alfredo. Guarda, è stata un'azione secondo me costruita bene perché abbiamo recuperato una palla con Mazza lì sulla tre quarti e poi Semprini è stato bravo a servirmi. Sono riuscito a girarmi bene ma non ho colpito benissimo la palla perché il difensore mi ha un po' sbilanciato e poi il portiere ha fatto secondo me una parata e poi la palla è andata a finire sul palo. Però guarda, è vero, tu ti giri benissimo con una magia tecnica. Poi se il pallone torna in campo, nell'area piccola c'è Antonio Ferrara che poteva fare il tapì. Che poteva fare il tapì. Però la palla è uscita. Rivediamo ancora una volta, guardate come si libera Bifulco di Delvino, non Dalmazzi scusate, che era il difensore che lo marcava. Tra l'altro un difensore esperto, non c'è sicuramente l'ultimo arrivato. E il pallone che termina fuori. Questo è stato il terzo legno colpito nel primo tempo. Qui una punizione violenta da parte di Arrigoni, allo scadere della prima frazione di gioco, con Vannucchi che respinge con i pugni e poi i formiconi in calcio d'angolo. Partita che comunque nel complesso è stata equilibrata, va detto. Poi è logico che ognuno può leggerla e interpretarla come vuole. Il Taranto può recriminare sui legni. La Fidelisandria può recriminare sull'azione sprecata da Ecuban e Bolzius sul tiro di Orfei alla fine del match con la superparata di Vannucchi che vedremo tra poco. Qui c'è una punizione, sempre Arrigoni sul pallone e la sfera, vedete, leggermente deviata, termina di non molto alta sulla traversa dell'estremo difensore ionico. Vannucchi che, devo dire, è stato protagonista sia nel primo che nel secondo tempo ipnotizzando Bolzius ed Ecuban nella circostanza che abbiamo visto e poi salvando il risultato quando stava per suonare la sirena. Il Taranto ha avuto anche un'altra occasione proprio nel finale con una sponda di Antonini in aria su Bifulco che a due passi dalla porta si è visto toccare tanto quanto basta per evitargli la coordinazione nel tiro. Qui c'è una conclusione di Mazza deviata da Vandelli, come vedete le occasioni ci sono state. Fuorigioco fischiato dopo. Ecco, qui siamo al novantesimo, Arrigoni batte questa punizione, la palla termina in area di rigore, poi c'è una buona giocata in area di rigore, vedete il pallone che vagava lì, qui prodezza il portiere, Totò. No, assolutamente, un rigore in movimento, è stato bravo a intercettare il tiro da 12 metri, diciamo, di là del dischetto, è stata una gran parata che probabilmente ha salvato il risultato. Alfredo Bifulco, il risultato giusto alla fine, secondo il tuo parere? Ma secondo me il risultato alla fine è stato giusto, noi secondo me il primo tempo abbiamo fatto un gran primo tempo, loro hanno avuto secondo me quell'occasione un po' fortuita, con Formiconi che è scivolato, però il primo tempo secondo me abbiamo fatto veramente un gran primo tempo, il secondo tempo ci siamo messi lì, e nessuna delle due squadre voleva perderla alla fine, secondo me il punto è un buon punto fuori casa, soprattutto in queste partite qua. Ecco, Totò, secondo te il risultato giusto e poi volevo chiederti l'importanza di questo pareggio in trasferta contro una squadra rigenerata, come dicevamo, anche se penultima in classifica, però col cambio dell'allenatore, con i nuovi volti, diventa sempre, no? No, vabbè, poi tieni conto che storicamente il derby con l'Andria è sempre stata una partita particolare, affrontare l'Andria in casa non è semplice e non lo sarà neanche per tutte le altre squadre, come hai detto tu, la squadra dell'Andria sembra rigenerata e quindi il punto ottenuto in trasferta è ottimo direi, perché permette di muovere la classifica e proseguire nell'andamento del campionato e conseguire nel più breve tempo possibile l'obiettivo stagionale che mi sembra sia in linea con i programmi della società. Ecco, prima volta dall'inizio, col Tarto, seconda presenza, perché poi l'esordio ufficiale era stato in casa con la Turris per te, Alfredo, quindi mi dai un giudizio sulla squadra, ecco, perché adesso conosci sicuramente meglio. Sì, guarda, io ho trovato, secondo me, un gruppo veramente, veramente un bel gruppo. La cosa che mi ha sorpreso di più è stata l'organizzazione di questa squadra, questo anche grazie tanto al mister e mi ha sorpreso questa cosa, in positivo. Ecco, vediamo la classifica nel frattempo, perché poi uno sguardo alla classifica bisogna sempre darlo, non le facciamo ogni settimana, ecco, il Tarto resta comunque ufficialmente è agganciato alla griglia play-off, perché è al decimo posto in condominio con l'Avellino e con il Latina a quota 29, più tre rispetto alla griglia play-out, che parte dal Monterosi, poi ci sono queste due squadre che si sono un po' staccate, perché il Messina, vedete, al terzo e ultimo posto, ha vinto domenica la terza partita consecutiva, quindi ha fatto nove punti, quindi quasi metà dei punti che ha a disposizione, con le nove in sole tre partite, dopo sei sconfitte consecutive, quindi diciamo un ruolino di marcia davvero altalenante, quello dei peloritani, però ha detto che anche il Messina ha fatto una campagna acquisti importantissima su tutti, Kragl e Perez, che sono due giocatori di categoria superiore, che sono andati a rinforzare, c'è stato anche il cambio dell'allenatore, insomma anche lì una rivoluzione in una piazza importante. Guardando questa classifica, che cosa mi viene in mente? Totò Mazzarano, alla quarta di ritorno. Innanzitutto approcciare la partita di domenica, che mi sembra un appuntamento da non fallire, nel senso che nonostante il Taranto sia a due punti dalla zona playoff, comunque è un appuntamento da sfruttare alla grande quello casalingo con la Gerbison. dicevo prima che insomma la classifica sta a testimoniare che l'andamento del campionato va nella direzione dell'obiettivo principale della società a inizio stagione e quindi non può che essere di buon auspicio. ripeto, l'importanza dell'appuntamento di domenica prossima allo Iacovone rappresenta uno step importante perché significherebbe mantenere a distanza una squadra che ha comunque due punti e nel contempo guadagnare qualche posizione in prospettiva playoff. Ci sono otto squadre in tre punti vedete dal Giuliano che ha 30 punti fino al Gerbison ci sono otto squadre che sono tantissime in soli tre punti per dire vincere una partita significa rischiare di scalare otto posizioni in classifica Vincerne due significa scalarne quattro Vincerne tre come ha fatto il Messina significa proiettarsi verso le zone altissime una classifica che comunque permette di scalarla conseguendo un paio di risultati pieni dove regna inevitabilmente grande equilibrio. A questo punto, proprio alla luce di questa classifica Bifurco, dove guardate? Su o guardate giù? Ma sicuramente noi dobbiamo guardare sia giù che su però questa secondo me come ha detto anche Salvatore è una partita importantissima per noi anche perché poi dopo tre giorni giochiamo subito di nuovo col Foggia e quindi abbiamo tre partite in una settimana ma secondo me la più importante è questa qua con la Gelbison. Ecco, volevo sentire Capuano perché poi è sempre piacevole ascoltarlo anche se l'intervista è quella che abbiamo registrato subito dopo la partita l'abbiamo mandata in diretta durante la nostra trasmissione tribuna centrale se la regia è pronta, curata da Gianfranco Melillo come sempre possiamo ascoltare le dichiarazioni del tecnico Rosso-Blu. Abbiamo fatto secondo me una grandissima partita sotto il profilo della corsa della volontà nel primo tempo li abbiamo presi due volte sui piazzati, traversa, due pali due occasioni clamorose e poi alla fine la puoi anche perdere loro hanno avuto un'occasione calcio d'angolo a favore nostro che sono partiti in contropiede quando è scivolato Formigoni e poi al 92esimo sto tiro, voglio dire è dove Gianmarco è stato bravo io penso che la squadra ha dimostrato ancora una volta il proprio valore carattere, personalità adesso si dirà ma non faccia un gol ho capito ma vai fuori casa, traversa e due pali salvataggio sulla linea di porta amen, abbiamo costruito molto perché poi queste partite le perdi perché quando riesci a costruire 3-4 palle gol, limpide, fuori casa e non la metti dentro poi devi stare attento questa è una partita difficilissima devo dire che i ragazzi hanno fatto una bella partita sono stati veramente molto bravi per tutta la gara concedendo giusto concedendo giusto perché tanto è una squadra che se non stai attento ti sbilanci, ti punisce è una squadra organizzata è difficile da affrontare lo sapevamo il fatto di aver concesso poco o nulla nel senso delle ripartenze questa è una cosa che mi dà soddisfazioni è risultato o meno è risultato o meno perché abbiamo avuto delle situazioni da gol camorose e questo un po' ci fa male però è la prima partita sappiamo che c'è da soffrire ero consapevole ne siamo consapevoli tutti quanti sono contento soprattutto per il risultato poi ovviamente sono contento anche per la prestazione ma passa in secondo piano sono contento per il risultato perché sapevamo dell'importanza di questo derby di questa partita è positivo tornare a casa con un punto dicevamo che la partita contro la Germison è importante lo diceva proprio Andrea Bifulco perché questo come ha spiegato Capuano è importante tenere la classifica di sotto distante quanto più possibile assolutamente perché il giorno di ritorno è un altro campionato appunto il giorno di ritorno storicamente è un altro campionato come dici tu perché insomma tra cambi di allenatori rinforzi del mercato e tutta sta storia diventa veramente un altro campionato è un appuntamento quello di domenica molto importante perché ripeto l'avversario a due punti sarebbe importantissimo centrare la prestazione e portare a casa l'intera posta per mettersi un po' più al sicuro rispetto a quanto già non dica la classifica ecco Totò il Taranto nelle ultime quattro partite ha subito soltanto un gol a Catanzaro contro i mostri del Catanzaro peraltro sul calcio di rigore quindi ha perso 1-0 su un rigore giunto pronti via fischio di inizio dopo due minuti calcio di rigore quindi partita clamorosamente in salita contro una squadra pazzesca come quella del Catanzaro quindi questo dà l'idea di una squadra organizzata no? perché è una squadra che non prende gol assolutamente assolutamente la compattezza difensiva tu che poi eri un difensore chi meglio di te ci può spiegare questo? no ma sicuramente la compattezza che dimostra il Taranto in questo campionato è frutto di un grande lavoro e soprattutto di tutta la squadra perché va a interessare l'intera l'intera gli interi undici che scendono in campo e quindi risulta per gli avversari molto difficile cercare la segnatura è un dato importante che in queste categorie sicuramente fa la differenza ecco grande merito va dato al lavoro settimanale dello staff tecnico che sicuramente ha un occhio particolare per quanto riguarda la fase difensiva ecco il rovescio della medaglia Andrea Alfredo Bifulco vale a dire la squadra che non subisce gol però sta segnando meno l'ultimo gol il Taranto l'ha fatto il 18 dicembre proprio al San Filippo di Messina la partita che i rosso-blu hanno vinto 2-1 contro il Messina quindi ecco c'è da preoccuparsi per questa assenza di marcatura anche se poi tre pali occasioni sprecate insomma le occasioni ci stanno sì ma secondo me non c'è da preoccuparsi anzi con il gioco che chiede il mister secondo me si possono creare anche più occasioni perché magari le squadre tendono ad aprirsi un po' di più giocando contro contro di noi che siamo una squadra molto chiusa organizzata e quindi secondo me i gol arriveranno tranquillamente ecco vorrei parlare adesso un attimo di te dal punto di vista tattico anche con questo atteggiamento di mister Capuano abbiamo visto il 3-5-2 però diciamo che Semprini aveva un compito più di raccordo giocava un po' più dietro di te quindi tu eri il terminale offensivo ad Andrea che non è proprio il tuo ruolo naturale perché tu sei più un esterno puoi fare addirittura anche il quinto esatto no io ho fatto un po' un po' di ruoli dall'esterno alla seconda punta al quinto però in partita era una sorta di punta e sottopunta e ogni tanto ci si trovava o io o Mauro Semprini in quella situazione del campo e l'obiettivo era di non far giocare il loro play che era a Rigoni e niente il mister ci aveva dato questa direttiva e abbiamo cercato di farla nel migliore dei modi e come ti sei trovato in questo ruolo in questa partita no mi sono trovato molto bene anche perché è un ruolo che ho già fatto ho fatto tante partite in quel ruolo e secondo me è un ruolo che mi piace anche tanto fare quindi secondo me posso far bene in quel ruolo ma in quel ruolo dai il 100% delle tue potenzialità sì sì assolutamente quindi sia esterno o trequartista o quinto sempre sempre non cambia il rendimento un giocatore duttile un jolly d'attacco quindi questo dà una chance in più al mister Capuano tu come la vedi a Totò? no assolutamente la duttilità dell'interprete è una è un'arma maggiore nell'arco del mister è chiaro che lo può sfruttare a seconda delle circostanze in diversi ruoli con diverso atteggiamento proprio per in virtù della grande duttilità della propensione al sacrificio anche allora facciamo così torniamo un attimo a parlare del mercato perché effettivamente il Taranto in questo mese di gennaio ha fatto molte operazioni di mercato sono arrivati giocatori importanti molti se ne sono andati come per esempio Infantino De Maria che incontreremo proprio domenica prossima perché sono andati scusate Ferrara scusate ancora quindi Infantino e Granata Ferrara il capitano mentre De Maria anche è andato via giocatori comunque importanti di spessore che avevano fatto la differenza nella passata stagione vediamo come è cambiato il Taranto nella scheda che ha realizzato per noi Vito Di Noi è un Taranto letteralmente cambiato nell'interpreti quello che domenica sfiderà la Gelbison alla corte di Capuano finora sono entrati sei nuovi calciatori oltre a Crecco il DS Evangelisti già nelle scorse settimane aveva chiuso per i difensori Under Canalicchio e Siragusa per le prime punte Rossetti e Semprini e per il fantasista Bifulco profili ai quali aggiungere Vannucchi Formiconi Gaston Romano e Raicevic giunti in rosso-blu nelle vesti di Svincolati un lavoro di Repulisti totale quindi quello operato da Evangelisti che in sinergia con Capuano ha letteralmente stravolto le idee iniziali perpetrate dal suo predecessore 8 invece i calciatori che non fanno più parte della compagine rosso-blu tra fine novembre e inizi dicembre nel dettaglio sono stati risolti i contratti del portiere russo del centrale Granata e del terzino De Maria da gennaio in poi invece Panattoni ha fatto rientro anticipato al Pisa i giovani Maiorino e Camorani sono stati girati in prestito rispettivamente al Termoli e al Matese mentre per Guida e Infantino sempre in prestito si sono spalancate le porte i due club campani Turris e Gelbison al passo d'addio anche Vona Brandi Sacoa e Forza e Gaston Romano tra poco meno di una settimana il Gong dopodiché il Taranto si tufferà a capofitto in tre mesi di fuoco nei quali provare a gettare le basi per conservare la categoria 8 giocatori in uscita altrettanti in entrata è una rivoluzione importante considerando che la rosa del Taranto non è stata mai molto ampia adesso siamo a poco meno di 20 calciatori quindi diciamo che è quasi metà rosa che è stata sostituita che è stata cambiata no assolutamente un lavoro certosino da parte della società di evangelisti che insomma ha messo a puntino quelle che sono le proprie strategie anche riferendomi al discorso iniziale anche in prospettiva perché fare un mercato in entrata e uscita così importante presuppone anche uno sguardo a quello che sarà il prossimo futuro penso ecco vedete questa grafica che ci propone Gianfranco Melillo le operazioni di mercato del Taranto a gennaio abbiamo in entrata Canalicchio che è un difensore a titolo definitivo dalla San Maurese in serie D poi Siracusa altro difensore svincolato Crecco che è un centrocampista la mezzala a titolo definitivo dal Pescara Bifulco che è un attaccante a titolo definitivo dal Padova poi Rossetti un altro attaccante in prestito dal Renate formazione di serie C settentrionale Semprini attaccante a titolo definitivo dalla Lucchese quindi questi sono gli ingressi sei mentre in uscita Russo il portiere al Real Agroversa De Maria che è rimasto svincolato ancora non si è accasato da nessuna parte poi Granata che troveremo domenica prossima con la Gelbison tra l'altro sarà sicuramente utilizzato da mister De Sanzo perché è stato squalificato Gilli un braccetto Mancino della squadra di Vallo della Lucania pertanto Granata che è anche Mancino giocherà sicuramente titolare poi Camorani ceduto alla Matese il centrocampista Michele Guida è andato alla Turris già giocato una partita intera proprio domenica scorsa Infantino altro ex che troveremo subito domenica prossima con la Gelbison poi il giovane Magliorino classe 2003 attaccante è andato alla Termoli e infine un altro attaccante Panattoni è tornato al Pisa società di appartenenza perché era arrivato al Taranto a luglio in prestito dunque sono tanti movimenti di mercato qui però non vediamo Vona che la notizia è giunta proprio nelle scorse ore la scheda è stata realizzata nel pomeriggio quindi c'è da aggiungere anche Vona che è un difensore Mancino che è passato alla Re Canatese abbiamo fatto questa videata giusto per dare un'idea un po' più chiara ai nostri telespettatori di quello che è avvenuto durante questo mercato di gennaio cosiddetto mercato di riparazione che si concluderà lo ricordiamo il prossimo 31 gennaio con i botti finali però ecco cosa ti aspetti fino alla fine del mercato c'è una settimana ancora quello che si doveva fare penso sia stato fatto penso proprio di sì poi come se dovesse succedere un'occasione talmente allettante da indurre i vertici della società e lo staff tecnico a intervenire ancora penso che non si faranno sfuggire l'occasione ma credo che a questo punto insomma il quadro sia ampiamente definitivo Capuano diceva nel pomeriggio adesso dovremmo completare la rosa con qualche giovane con qualche juniores questo anche per dare la possibilità al tecnico di fare sempre il cosiddetto minutaggio questo a prescindere da quello che sicuramente è un'indicazione molto importante che probabilmente saranno questi gli eventuali colpi di coda del mercato del Taranto perché da un punto di vista della struttura anche a livello di esperienza penso che quello che si doveva fare è già stato fatto poi non dimentichiamo che ad Andria è rientrato anche un certo Diabì che è un giocatore che conosciamo bene la sua terza stagione con il Taranto un giocatore importante che se sta bene davvero dà una grossa mano alla squadra ecco c'è un'altra notizia che vorrei darvi di questa settimana di questa partita di Andria degli Ulivi per la prima volta da quando il Taranto è tornato in Serie C non è stato fatto il minutaggio quindi non sono stati schierati i classici tre juniors per per completare i 271 minuti di partita che sono validi per accedere alle providenze federali quando si concluderà il campionato e questo secondo me che è significato vuol dire che adesso cominciano a contare più i punti no? Assolutamente che contributi federali questo è fuori di dubbio tenendo conto poi ripeto che storicamente la partita di Andria è sempre stata un appuntamento difficile un derby l'iblazione delle due delle due città e delle due squadre cioè lascia un momentino ad altre occasioni la possibilità di attingere al minutaggio ma è anche un segnale era una partita importante perché da un punto di vista della classifica significava tanto vincerla avrebbe avuto tutt'altro senso ma comunque non perderla ha il suo perché e quindi secondo me proprio da un punto di vista utilitaristico e della dell'importanza della classifica penso che le scelte siano andate in quella direzione ci saranno sicuramente altre occasioni per andare a sfruttare il cosiddetto minutaggio però un messaggio importante della società alla squadra all'allenatore ma anche alla piazza assolutamente assolutamente denunciare a incassi per dare all'allenatore la possibilità di gestire in maniera assolutamente indipendente la rosa della sua disposizione ma mi sembra che l'ottenimento del risultato del campo sia ampiamente più importante di quello che possono essere tutti gli altri discorsi adesso c'è da blindare una classifica c'è da fare quanto prima i punti necessari per mettersi a riparo da ogni sorpresa e quindi ci si affida a quelli che sono tra virgolette i profili più esperti e più affidabili intanto guardiamo la classifica perché volevo strapparvi un pensiero su quanto sta accadendo in vetta il Crotone che pareggia in trasferta subendo il gol del pari al novantesimo e oltre al novantaduesimo e c'ha guardate 55 punti siamo alla ventitresima giornata il Crotone le ha vinte tutte o quasi però quel quasi fa la differenza di otto punti Catanzaro il Catanzaro 19 vittorie fa un campionato diverso nel senso che per struttura per caratura tecnica ha ben poco da da rischiare in questo campionato il Crotone lo stesso sta facendo un campionato super però per sua sfortuna ha incontrato quest'anno il Catanzaro ripeto che fa un altro campionato ve le voglio dare queste cifre perché sono pazzesche forse neanche la ternana di tre anni fa ha fatto questi questi numeri sono 63 punti in 23 partite 20 su 23 vinte tre pareggi 62 gol fatti 8 quelli subiti no? in 23 partite fa un campionato diverso fa un campionato diverso probabilmente anche il loro anno oltre ad avere una grande una grande squadra da un punto di vista tecnico c'è poco da fare ecco poi ripeto anche l'anno scorso il Catanzaro ha fatto ha fatto bene quest'anno si sta superando senti diamo invece uno sguardo alla parte bassa della classifica dove c'è una turris incomprensibile perché a un organico l'abbiamo detto tante volte da playoff nei primi cinque posti però si trova al quarto ultimo posto in una situazione difficilissima a quota 23 non vince da tante settimane ha subito 39 gol che non sono sicuramente pochi ed è lì in difficoltà ha vinto soltanto 5 partite poi c'è la Virtus Francavilla altra squadra che era stata costruita in estate con l'intento di arrivare nelle parti altissime della gradatoria e invece si verifica una situazione strana forse come non mai almeno a memoria d'uomo non ricordo vince in casa tutte le partite perde fuori tutte le partite come si spiega questo fatto? una bella domanda probabilmente il fatto la partita in trasferta riveste un ostacolo un po' un po' alto da superare per quest'anno è una questione di mentalità di carattere di testa più che altro è una questione di testa di atteggiamento perché in casa comunque riesce sempre a centrare la prestazione a portare a casa anche risultati importanti fuori casa probabilmente non ha quel piglio che negli anni scorsi magari è stato segno distintivo delle squadre di Antonio perché comunque Calabro fa della compattezza difensiva anche lui un biglietto da risita importante poi sai sono annate anche Gianni e quest'anno gira così allora mentre il calendario della Taranto prevede per domenica prossima come dicevamo le 17.30 Taranto Gelbison poi la prossima trasferta del Rosso Blu sarà nel turno infrasettimanale l'1 febbraio in un bellissimo derby che è quello dello Zaccheria di Foggia quindi si giocherà Foggia Taranto che è una partita che ci richiama alla memoria sfide importanti giocate in serie B si giocherà alle 21 questo è l'orario prestabilito e la partita sarà trasmessa in diretta in chiaro da Antenna Sud quindi potete seguire questo bellissimo derby sulle nostre frequenze sul 14 del digitale terrestre poi in casa con il Latina dunque allora Alfredo Gelbison in Latina in casa Foggia in trasferta tutte d'un fiato perché in mezzo c'è il turno infrasettimanale domenica mercoledì domenica si assolutamente ma come ho già detto prima secondo me noi dobbiamo adesso pensare partita per partita e credo che questa qua con la Gelbison sia la più importante delle tre e poi ovviamente il calendario è quello là e bisognerà fare maggior punti possibili in qualsiasi partito poi c'è un'altra nota di cronaca statistica che forse ad Andria per la prima volta non ci sono state lamentere nei confronti dell'arbitro mi pare che sia andato tutto per il verso giusto con il signor Bonacina di Bergamo l'arbitro credo abbia fatto un'ottima gara quindi non vedo il perché ci dovevano essere delle volenti una volta tanto assolutamente perché Taranto si è molto lamentato nel corso di questo campionato soprattutto nel giorno di andata ma anche nel giorno di ritorno vedasi la partita di Catanzaro dei direttori di gara questa volta tutto bene complimenti al signor Bonacina ci caliamo adesso nel prossimo turno e cioè quello che vi dicevo Taranto Gelbison si giocherà allo Iacovone le 17.30 di domenica sfida molto importante che per la prima volta viene giocata in un campionato professionistico in serie C tra le due squadre si erano affrontate in passato ma sempre in serie D adesso vediamoci la scheda che ci fa il profilo dei prossimi avversari di Rosso Blu sempre firmata da Vito Di Noi allo Iacovone domenica pomeriggio sarà di scena la Gelbison che per la prima volta nella sua storia sta disputando un campionato professionistico e risultati alla mano il cammino del club campano è in linea con l'obiettivo salvezza 27 punti totali frutto di 6 vittorie 8 pareggi e 9 sconfitte per un totale di 18 gol segnati e 23 incassati i Rosso Blu sono inquietati in panchina da Fabio De Sanzo fautore del 3-5-2 oltre che profilo esperto nella categoria che già in passato è stato in grado di conquistare la permanenza in C al timone della Paganese a sua disposizione un gruppo composto da individualità interessanti fornito e senz'altro elemento più talentuoso ma anche Caccavallo Correnti De Sena e Tuminello sono profili importanti per la categoria al pari del difensore Granata e dell'attaccante Infantino entrambi i recenti ex del Taranto e che domenica faranno ritorno in Rivalo Ionio nelle vesti di avversari allo Iacovone si contano tre precedenti tutti in Serie D due le vittorie del Taranto e un pareggio mentre la sfida dell'annata 2019-2020 non si è mai disputata a causa del Covid secondo te Alfredo Bifulco quali sono le insidie maggiori che nasconde questa partita contro la Gervison? Sicuramente sarà una partita tosta per tutte e due tutte e due le squadre credo che loro sono in un momento anche abbastanza buono e quindi faranno di tutto per provare a portare un buon risultato a casa Intanto tra poco ci collegheremo con Varo della Lucania per ascoltare il direttore generale della Gervison volevo darvi una notizia dell'arbitro ringraziando Sante Scardillo che ci dà i dati statistici del prossimo direttore di gara lo vedete qui alla Via Covone dirigerà il 31enne Hermes Fabrizio Cavaliere della sezione Aia di Paola pertanto un arbitro calabrese al quarto anno in Serie C la signora ha collezionato 76 gettoni di presenza 42 in Serie C 4 in Coppa Italia dello stesso campionato cioè Serie C 28 con le squadre Primavera e 2 in Coppa Italia Primavera 322 le ammunizioni combinate tantissime cioè sono 322 ammunizioni in 76 partite quindi la media è molto alta a partita mentre sono 19 le espulsioni e 13 calci di rigore decretati quindi rigori non ne dà quest'arbitro perché 76 partite e 13 rigori sono pochi o è giusto come media secondo te? è in linea è in linea? in linea sì non ci mettiamo con le mani avanti no? allora un precedente con i rosso-blu Taranto-Savoia 1-0 campionato 2018-2019 poi prima volta con i Lucani 4 le gare dirette nel giro di questa stagione dall'arbitro che lo vedete molto giovane 31 anni il signor Cavaliere di Paola 4 le gare dirette come dicevamo Messina-Viterbese 1-1 Latina-Abellino 1-0 Cerignola-Turris 2-1 e Monopoli Virtus Francavilla 1-0 è stato impegnato di recente nella semifinale d'andata di Coppa Italia di Serie C Foggia-Juventus Next Gen Next Generation 2-1 gli assistenti arbitrali saranno Luca Feraboli di Brescia e Mattia Regattieri di Reggio Emilia quarto uomo della partita Taranto-Gervison sarà il signor Alessandro Gervasi di Cosenza e quindi sono queste le notizie statistiche sulla quaterna arbitrale che ci fornisce Sant'Escardillo che salutiamo e ringraziamo mi aiuti a leggerla meglio questa partita la Gervison probabilmente verrà qui per prendere almeno un punto quello il classico il classico il classico 0-0 sicuramente la disposizione tecnica come anticipato nel servizio come marchio di fabbrica del suo allenatore 3-5-2 quindi sarà una partita complicata perché probabilmente giocherà a specchio con il Taranto e diventerà diventeranno fondamentali i duelli individuali ecco sicuramente verrà a Taranto per centrare prestazione e portare via un risultato positivo si tratterà di ripeto secondo me conteranno molto i duelli individuali in mezzo al campo a decidere l'inerzia dove andrà la partita però è una partita importante da prepararla bene e soprattutto centrare la prestazione poi il risultato è una è una somma di situazioni che non è possibile pronosticare il fatto importante è centrare la prestazione a livello mentale e caratteriale e allora noi adesso ci colleghiamo eccolo qui lo vediamo già in diretta Skype lo ringraziamo direttore buonasera grazie buonasera a voi grazie dell'invito ecco allora parliamo un po' di questa Gelbison diamo anche qualche nota statistica è iniziata così e così la stagione poi il cambio dell'allenatore e la Gelbison comincia a volare con De Sanso tant'è che arriva nei primissimi posti alla graduatoria subito dopo il terzetto delle magie e poi un calo quasi due mesi circa due mesi senza vittorie e sabato scorso in anticipo con la Virtus è arrivato il successo che si aspettava da diverse settimane ecco come mai questi alti e bassi della sua squadra è segno sicuramente della poca esperienza che abbiamo in questa categoria abbiamo avuto sicuramente un calo fisiologico dovuto sicuramente al grande sforzo che abbiamo fatto anche perché soprattutto durante la prima fase della stagione non avevamo una rosa molto molto ampia quindi lo stesso mister De Sanso dopo le sue prime quattro gare vinte una di seguito dall'altro ha utilizzato quasi sempre gli stessi uomini quindi ce lo aspettavamo anche questo calo per fortuna dopo 8-9 risultati in cui la vittoria non arrivava pur giocando bene che probabilmente nell'arco di questa stagione forse una sola partita siamo entrati malissimo in casa contro il Monterosi poi per il resto abbiamo battagliato sempre onestamente sabato abbiamo giocato bene su un campo difficile inteso come terra battuta diciamo come un'erba molto pesante aveva piovuto tantissimo quindi era difficilissimo giocare naturalmente sia per noi che per il Virtus Francavilla una vera battaglia siamo riusciti a vincerla anche con l'aiuto dei nuovi innesti e speriamo di continuare questa striscia positiva che poi i nuovi innesti sono entrambi ex Taranto mi riferisco a Granata e Infantino che ha rivendicato la paternità del primo gol contro la Virtus Francavilla sulla deviazione del numero 9 il tiro di Loreto che poi ha fatto il gol del 2-0 ed Infantino questo gol quello che stiamo vedendo con la Virtus è stato attribuito ad Infantino però onestamente io lo attribuirei a Ciro Loreto perché lo ha meritato e lo ha inseguito già da tanto tempo domenica sabato meglio è subentrato anche Tuminello che è un altro ultimissimo nuovo acquisto però devo dire che sia Antonio Granata sia lo stesso Infantino insomma ci stanno dando una grande mano sono due ottimi professionisti due grandi calciatori quindi siamo veramente contenti di questo che hanno iniziato a fare continueranno sicuramente a dare al nostro gruppo già bello solido ecco parliamo della partita di domenica qual è la sua chiave di lettura domenica è una partita importantissima delicatissima e difficile perché insomma il Taranto non lo scopro io che forse sono uno degli ultimi arrivati in questa categoria in questo mondo sicuramente c'è da 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 battagliare purtroppo abbiamo anche una defaianza che Gilli che è stato fermato per un turno di stop all'ultimissimo secondo proprio della partita di sabato ha beccato l'altra munizione che farà saltare la partita però per fortuna come dicevo prima abbiamo rispetto alla prima parte del campionato una rosa un po' più ampia il mister De Sanso ha a disposizione più pedine che dovranno insomma sicuramente fare la partita importante domenica perché già il Tarant è forte in casa poi non ne parliamo proprio è un campo storico quindi siamo davvero onorati anche di venire a Tarant a giocare voi ecco volevo affrontare con lei direttore Ugo Schiavo che ovviamente vedete in sovraimpressione voi giocate sempre in trasferta perché avete fatto la prima parte della stagione sul campo neutro di Pagani alla Torre a Marcello Torre adesso vi siete trasferiti ad Agropoli sempre la provincia di Salerno però insomma bisogna sempre vedere Borsoni mettersi sul pulmo fare ogni settimana una vitaccia diciamo così non ne parliamo non ne parliamo va beh rispetto a Pagani onestamente Pagani era davvero una trasferta perché Pagani partivamo la mattina in albergo invece Agropoli per fortuna è a 20 minuti quindi lo raggiungiamo facilmente onestamente molto 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 semplice purtroppo non siamo a Vallo ma Vallo della Lucania attualmente non ha un impianto adatto alla Serie C con tutte le critiche che purtroppo stiamo subendo in primis il nostro presidente Maurizio Puglisi che sta facendo un miracolo un miracolo perché comunque anche lo stadio guariglia di Agropoli per metterlo a norma per poterci far disputare le partite di Lega Pro lui ha fatto un intervento importantissimo non solo da un punto di vista economico ma anche strutturale per fortuna l'impianto di Agropoli permetteva anche l'allargamento degli spogliatoi il presidente ha dovuto ricostruire la sala stampa che non c'era proprio così come la sala antidoping ha dovuto completamente rifare il manto erboso che è in erba naturale e non può essere altrimenti perché ad Agropoli si tengono anche degli eventi importantissimi dell'Atletica Leggera quindi per forza non poteva essere sostituito il terreno di gioco con un'erba sintetica perché per il lancio del giavellotto del peso e quant'altro è obbligatorio per la federazione di Atletica l'impianto in erba naturale però ripeto siamo a 20 minuti scarsi da Vallo della Lucania quindi giochiamo più o meno in casa ci ospita i nostri cugini dell'Agropoli e li ringraziamo anche per questo certo ci può stare che cosa temete di più di questo Taranto tra l'altro anche rivoluzionato come abbiamo visto poco fa dagli innesti di questo mercato di gennaio oggi è arrivato Crecco questo giocatore con 171 partite in serie B e 5 in serie A è un giocatore che assolutamente non si discute ma tutto è il Taranto tutta la struttura Taranto che è magicamente magistralmente guidata da una nostra conoscenza storica che è il mister quindi è una partita ripeto difficile sicuramente la sbloccherà qualche episodio però noi non certo verremo a mettere il pullman come si suol dire avanti la porta assolutamente non lo abbiamo mai fatto e forse questo è quello che in molte partite ci ha penalizzato come ad esempio Potenza noi abbiamo giocato 12 minuti poi purtroppo siamo crollati mentalmente dopo un gran gol di Catorano e questa è scaturita dalla sconfitta per fortuna questo sabato non c'è stato e spero non ci sarà nemmeno domenica contro il Taranto perché una nostra prerogativa sicuramente è quella di macinare molto gioco molto possesso palla abbiamo finalizzato poco ma ripeto con gli innesti anche dei due ultimi attaccanti che abbiamo acquistato insomma la bilancia dovrà iniziare a pendere dalla nostra parte ovviamente presumo che sia la permanenza il vostro obiettivo stagionale anche se la classifica parla di soli tre punti dalla griglia playoff per voi no? Sì non dobbiamo assolutamente rimanere mantenere la categoria però la classifica è cortissima se non sbaglio all'ottavo posto ci sono tre punti che ci dividono all'ottavo posto preferisco guardare avanti perché guardare indietro significa come quando stai a mare se guardi guardi l'orizzonte forse va meglio se guardi cosa hai sotto i piedi che l'acqua magari alta e non tocchi terra è più difficile però è cortissima la classifica è un campionato molto molto equilibrato a parte il Catanzaro che sta facendo un campionato a sé ma già il Crotone e il Pescara non riescono a stare al passo della capolista Catanzaro per il resto siamo più o meno tutti equilibrati e si vedono dei risultati ad esempio una Juve Stabbia che attualmente è quinta o qui dalla quinta posizione sono due partite che ha perso 3 a 1 in casa col Monterosi ha perso anche la partita dello scorso turno quindi è molto livellato il campionato quindi si gioca anche sul pareggio il pareggio basta non perdere che muovere la classifica è sempre importante a mio avviso c'è un dato statistico curioso la Gelbison che è quindicesima in classifica in questo momento è la quinta migliore difesa del campionato con 23 reti subite però è uno dei peggiori attacchi il secondo peggiore dopo quello della Fidelisandria quindi 23 gol subiti in 23 partite piazza la Gelbison tra le migliori difese del campionato e i 18 gol messi a segno sono il secondo peggior attacco del campionato sono numeri un po' stridenti questi qui però vero direttore? assolutamente quello che dicevo prima noi per questo abbiamo cercato più o meno qualche attaccante in più in questa sessione di mercato proprio perché ci siamo resi conti il presidente e il nostro direttore sportivo si sono effettivamente resi conto che maciniamo gioco giochiamo però alla fine non finalizziamo quindi questo è sicuramente l'obiettivo col modulo di cui accendava anche il nostro ospite lì prima è a specchio rispetto al tanto un 3-5-2 quasi più classico però se non hai le punte che magari o l'uomo d'aria di rigore che magari ti fa molti gol difficilmente riesci a vincere le partite quindi per fortuna abbiamo già fatto un miracolo con quel punteggio fatto nel girone di andata onestamente infatti era stata davvero sorprendente questa marcia in arresta che sembrava inarrestabile a un certo punto del campionato della Gelbison le vinceva tutte avete vinto anche a Cerignola che è un campo inespugnabile allora grazie per questo collegamento grazie per la disponibilità direttore saremo lieti di ospitare lei e la Gelbison a Taranto come facciamo sempre con tutte le squadre che vogliono giocare allo Iacovone grazie grazie mille grazie a voi e ci vediamo domenica va bene tanto siamo tutti rosso-blu quindi i colori vanno benissimo è vero è vero grazie al direttore generale Ugo Schiavo della Gelbison Calcio siamo in chiusura io più o meno in direttura d'arrivo volevo farvi vedere le vignette di Leo Zazza e poi andremo ai saluti finali con Alfredo Bifulco e Totò Mazzarano vediamo come abbiamo interpretato il momento rosso-blu i punti salvezza vedete a sinistra c'è Trocini a destra c'è mister Capuano che a tavola si dividono a meglio si prendono questo punto dice sono affamato dice Trocini vabbè accontentiamoci replica mister Capuano andiamo avanti perché c'è una giusta celebrazione di Gianmarco Vannunchi Super Vannunchi volare o con quel paratone che ha fatto più o meno al novantesimo della partita degli Ulivi che ha salvato il risultato e che sarebbe stata sicuramente una beffa per il Taranto prendere gol in quelle circostanze Capuano l'ha detto certe partite se non riesce a vincere poi devi stare attento a non perderle il quarto legno del Taranto e quindi Capuano è rimasto così un po' deluso da questo episodio che da questi episodi che si sono verificati pensate tutti nel primo tempo allora grazie a Leo Zaza che salutiamo il pensiero finale di Andrea di scusate Alfredo Bifulco ma ti ringrazio Gianni e auguro a tutti una buona sera come ti stai trovando a Taranto ecco adesso qualche giorno in più l'hai avuto per vedere la città sì sì assolutamente mi sto trovando molto bene mi sembra di stare a casa tu sei di Ottaviano di San Giuseppe Vesuviano di San Giuseppe Vesuviano quindi sei napoletano in realtà più o meno Taranto e Napoli sono delle città che si ricordano vicendevolmente molto ti trovi a casa e i Tarantini? i Tarantini anche dai credo che si avvicinino molto alla filosofia dei napoletani hai già percepito l'importanza che ha il calcio a Taranto sei stato riconosciuto per strada sei stato avvicinato ma Taranto è una piazza che vive di calcio quindi sicuramente grazie ad Alfredo Bifulco il pensiero finale di Toto Mazzarano magari ecco il tuo il tuo pensiero su questa partita di domenica prossima ripeto è importante innanzitutto centrare la prestazione è una partita che può significare tanto perché magari portarla a casa in maniera piena significherebbe dare un'altra prospettiva a tutto il resto del campionato ecco è una partita se non da spartiacqua è molto importante perché è proprio in proiezione di quello che può essere il futuro prossimo già da mercoledì perché comunque l'appuntamento con lo Zaccheria è sempre riveste sempre un fascino particolare una partita intrigante insomma un'iniezione di fiducia portando a casa la partita di domenica sarebbe una grande spinta emozionale verso questo traguardo allora io prima di salutare volevo innanzitutto abbiamo già fatto in diretta al Degli Ulivi però mi piace farlo anche qui in questa trasmissione ringraziare la dirigenza della Fidelisandria perché noi abbiamo trasmesso in diretta questa partita domenica scorsa per la disponibilità l'accoglienza il garbo e l'ospitalità che ha ricevuto la troupe di Antenna Sud e quindi grazie alla dirigenza federiciana insomma un bel segnale di grande attenzione e poi insomma volevo ringraziare anche la nostra regia che oggi è stata curata sapientemente come sempre da Gianfranco Melillo vi rimando a martedì prossimo con un'altra puntata di Rosso Blu con i riflettori puntati sul Taranto sempre sul 92 sempre su Antenna Sud Extra grazie e arrivederci grazie a